I valori sono importanti, oggi c'è la danza bandiera, la bandiera italiana, che chiaramente è il simbolo dell'Italia e i nostri ragazzi lo devono sapere. Oggi siamo al liceo Galileo Galilei di Mondragone, forze dell'ordine, forze armate, insomma tanti angeli, tutti gli angeli della nostra sicurezza qui ad incontrare le ragazze. Andiamo a vedere le immagini. Ieri un bellissimo concerto all'Aesol di Mondragone, oggi una giornata con forze dell'ordine, forze militari. Il liceo Galilei sempre più in alto, preside Pellegrino. Sì, il liceo Galilei è sempre presente, devo dire le sollecitazioni sono moltissime e noi siamo sempre pronti ad accoglierle tutte perché i nostri studenti, le nostre studentesse hanno bisogno di una formazione completa. Ieri c'era la musica con il PCTO, oggi invece abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa con l'esercito italiano. Erano presenti tutte le autorità civili e militari della città di Mondragone perché i nostri giovani vanno formati chiaramente con la presenza di tutti, ciascuno ha il suo ruolo. I giovani si formano quando siamo tutti insieme e formando una straordinaria squadra. Le emozioni e gli obiettivi di questa giornata? Le emozioni fortissime, c'è stata la fanfara che ha dimostrato chiaramente una performance straordinaria. I ragazzi erano entusiasti, felici anche perché non sono cose che si vedono tutti i giorni. Oggi qui per veicolare l'amore e il rispetto per le istituzioni? Sì certo, ogni giorno noi lo facciamo. Fa ingresso la fanfara dell'ottavo reggimento per i seglieri di Caserta. Sì certo, ogni giorno noi lo facciamo. Un evento straordinario, tante le emozioni, i ragazzi hanno appreso la bellezza e hanno incontrato la qualità delle nostre istituzioni. Varte De Rosa, Italia Felix TV